Ciao a tutti diavoletti, oggi sono molto preoccupato, sapete perché sono preoccupato? In pratica vi spiego, è da giorni che uno sconosciuto sta seguendo me e Vinci per strada Eh sì, ci sta proprio seguendo, guardate Ci rincorre per strada e poi appena ci vede, vuole rapirci, vuole farci del male Eh, noi abbiamo tanta paura di uscire di casa Ma, diavoletti, c'è un piccolo problema, guardate il nostro frigo, è vuoto Non c'è nulla da mangiare, nulla da bere, non c'è proprio nulla C'è solo il ghiaccio, ma come facciamo a mangiare il ghiaccio? È troppo duro, diavoletti, e non potete capire quello che è successo Stamattina Vinci è uscito un attimo per andare al supermercato, ma poi non è più tornato Dove è adesso Vinci, dove è adesso Vinci? Io devo uscire, devo andare a vedere dove è Vinci E se lo sconosciuto lo avesse rapito? È da due ore che non torna Vinci, dove sei? Oh mio Dio, sono da solo a casa E Vinci non è più tornato Dov'è Vinci? Cosa? Ma? Cosa? Ma cosa c'è scritto sulla tv? Ciao, sono lo sconosciuto? Lo sconosciuto sta parlando con me Ho rapito Vinci, adesso Vinci è con me? Cosa? Vinci è stato rapito dallo sconosciuto, perciò non torna a casa E adesso cosa succederà? Adesso tu, Anto, farai delle sfide Se le perdi, io non libererò Vinci e verrò a casa a rapirti Cosa? Io, io, adesso farò delle sfide E diavoletti, se perdo queste sfide Vinci? Resterà per sempre con lo sconosciuto Quindi? Devo vincere queste sfide? Devo vincerle? Ad ogni costo, sconosciuto, io ti sconfiggerò Ok, quali sono queste sfide? Ora inizierai la prima sfida Se perdi la prima sfida Busserò alla tua porta Cosa? Oh mio Dio, questa è la prima sfida Riesci a vedere il gatto? C'è un gatto in questa foto Ma io non lo vedo Vedo solo palazzi Diavoletti? Voi vedete il gatto? Io non vedo nessun gatto in questa foto Gatto? Dove sei? Diavoletti? Riuscite a vedere il gatto in quella foto Perché io non lo vedo E se non lo vedrò Lo sconosciuto busserà alla mia porta Oh no Diavoletti? Dov'è questo gatto? Qui ci sono solo palazzi Io non vedo nessun gatto È difficilissimo Non riesco a vedere il gatto in questa foto E non voglio perdere la sfida Se non lo sconosciuto busserà alla mia porta Ok, dov'è questo gatto? Gatto, dove sei? Voi vedete qualche gatto? Hai perso? Ho perso? Cosa? Il gatto? Si trovava proprio qui Guardate Era questo qui Cosa? Adesso sto per bussare Lo sconosciuto Sto per bussare alla mia porta Era molto difficile trovare il gatto Ma Adesso lo sconosciuto Busserà alla mia porta Ma dai È solo uno scherzo Nessuno busserà alla porta E lo sconosciuto Sta bussando Lo sentite? Allora è la verità Se perdo le sfide Oh mio Dio È vero Lo sconosciuto è qui fuori Lo sconosciuto è qui fuori Sto tremando Sto tremando Devo aprire la porta Devo aprire la porta No Anto Tu non devi aprire nessuna porta Se non lo sconosciuto Entra in casa E ti farà del male Ok diavoletti Cosa devo fare? Cosa devo fare? Vado a vedere se ci sono altre sfide Sconosciuto vai via Non devo perdere più queste sfide Se no non rivedrò mai più vinci Il gatto si trovava proprio qui Guardate questo qui Lo vedete? Era molto difficile Queste sfide sono molto difficili Gatto stupido Ok E adesso non ci sono altre sfide Questa è la seconda sfida Se la perdi Mi avvicinerò sempre di più Cosa? Ok 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 Questa è la seconda sfida E questa sfida io non la devo perdere Perché se la perderò Lo sconosciuto si avvicinerà sempre di più Ok Vinciamo questa seconda sfida Dai qual è? Dai dai Qual è la seconda sfida? Sputa il rospo Dai televisione stupida Dai dimmi la seconda sfida Che ho ansia Devo salvare vinci Ok dai Dai Perché non si muove? È rotta Oh Ecco Qual è la scatola con una mela dentro? Diavoletti Qui ci sono due scatole La A e la B Quale sarà la scatola con la mela dentro? E io che ne so È difficile È difficile Questo è veramente difficile Ti odio sconosciuto Ok Quale sarà la scatola con la mela dentro? La A o la B? Diavoletti Aiutatemi dai Lasciate un commento Secondo voi Qual è la scatola con la mela dentro? Diavoletti dai Oh mio dio Allora c'è una differenza La scatola B è più piccola La scatola A è più grande? Secondo me Quella giusta È la A Ne sono certo Secondo me Quella giusta è la A Perché il mio nome È Anto E l'iniziale del mio nome È la lettera A Secondo me Questa è quella giusta Ok Clicco la lettera A Secondo me Questa è quella giusta Hai perso? Ho perso? Quella giusta? Era la B Guardate Nella B C'era la mela Ho sbagliato Quindi adesso L'ho sconosciuto Adesso guarda fuori la finestra Cosa c'è fuori la finestra? Devo andare a controllare? Ho paura Ho molta paura Chi ci sarà fuori la finestra? L'ho sconosciuto? Vinci Mi dispiace che non sto vincendo le sfide Ma io devo vincerle Devo vincerle Perché se perdo queste sfide Perderò te E io non voglio perderti Oh mio dio Diavoletti Andiamo a controllare Chi c'è fuori la finestra? Ok diavoletti Io mi sono avvicinato alla finestra Ma non vedo proprio nessuno Voi vedete qualcuno fuori la finestra? No Non c'è nessuno Secondo me Questo è uno scherzo Non c'è proprio nessuno Qui fuori Nessuno Io non vedo nessuno Cosa? E' lo sconosciuto E' proprio lo sconosciuto Mi sta salutando Cosa vuole da me? Diavoletti? Sta per entrare in casa? Entrerà in casa? Oh mio dio Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma dov'è adesso? Dov'è adesso? Cosa? Ciao Anto Oh mio dio Perché mi sta salutando? Vuole entrare in casa? Vuole entrare in casa? Mi ha anche salutato Cosa devo fare? Cosa devo fare? Sono rimasto un altro foglio Adesso entro Diavoletti Adesso entrerai in casa Adesso entrerai in casa Quello sconosciuto mi fa veramente paura Sta continuando a colpire la finestra Cosa devo fare? Adesso vado vicino alla televisione Magari c'è un'altra sfida Dov'è? C'è un'altra sfida? C'è un'altra sfida Terza ed ultima sfida Se perdi quest'ultima sfida Non libererò mai Vinci E sarete divisi per sempre Ok Ok Adesso non riesco neanche a parlare dall'ansia Sto per fare l'ultima sfida E se perdo quest'ultima sfida Vinci Non sarà mai liberato E io e Vinci Saremo divisi per sempre Oh no Devo vincere questa sfida Qual è? Dai Qual è l'ultima sfida? Televisione stupida Muoviti Non devo perdere Non devo perdere Oh Non incontrerò mai più Vinci Cosa? Oh mio Dio Riesci a trovare il pesce in questa foto? C'è un pesce in questa foto? Ma è facile Il pesce si troverà proprio qui? Oh no Questa è una medusa E questo? No Questo è un cavalluccio marino Non troverò mai il pesce in questa foto È difficilissimo Diavoletti Dove si trova questo pesce? Qui c'è una stella marina Ma il pesce dov'è? È impossibile vederlo È impossibile vederlo Se voi lo vedete avvisatemi Ok dai impegniamoci Dov'è questo pesce? Oh Cosa c'è? Lì nascosto dietro quelle piante? Un'altra medusa Oh no Diavoletti Cosa devo fare? Oh Questa è solo una conchiglia Cosa devo fare? Cosa devo fare? Io questo pesce non lo vedo proprio Dov'è questo pesce? Dove? È solo una medusa con un cappello in testa? Dov'è questo pesce? Dove si trova questo pesce? Ma io questa sfida devo vincerla? Se non vinci non ritornerà più da me? Oh mio Dio Lo sconosciuto non libererà vinci se non vinco questa sfida Quindi devo vincerla? E dov'è questo pesce? Dove si trova questo pesce? Voi lo vedete da qualche parte? Oh mio Dio vedo solo conchiglie Vedo meduse Non vedo proprio nessun pesce Vedo anche cavallucci marini Ma il pesce non lo vedo Ok ok ragioniamo Cosa? Diavoletti Ma che cosa è questo? Questo è il pesce Guardate Non è una stella marina? Non è un cavalluccio marino? Non è una piccola medusa? Quello? È proprio il pesce Guardate questo qui Quindi l'ho trovato? L'ho trovato Non ci credo Ma è quello lì? Quella è la risposta giusta È la risposta giusta Quello è il pesce Quindi ho vinto Ho vinto l'ultima sfida E adesso? Adesso libererò Vinci E io andrò via per sempre Addio Ante Vinci Lo sconosciuto andrà via per sempre Vinci verrà liberato Ma quando lo libera Non è che questa è solo una bugia? Ho vinto questa sfida Quindi lo sconosciuto andrà via per sempre Non ci darà più fastidio Ma quando torna Vinci? Io lo sto aspettando E non torna? Quando tornerà? Perché non bussa nessuno alla porta? Dai, dai Vinci Dove sei? Vinci! Perché non viene? Lo sconosciuto ha detto una bugia Non lo libererà? Non lo libererà? Vinci dove sei? Perché non bussi? Cosa? Chi è che sta bussando? Vinci? O lo sconosciuto? Vinci? O lo sconosciuto? Chi è che sta bussando? Devo aprire questa porta? Secondo voi? E lo sconosciuto? O è Vinci? Cosa devo fare? Qualcuno sta bussando? Quindi? Io devo aprire? Ma? Cosa c'è scritto qui? Attenzione! Perché devo stare attento? Diavoletti? Perché c'è scritta quella frase lì? Perché c'è scritto... Aprire quella porta potrebbe essere pericoloso? Perché aprire quella porta potrebbe essere pericoloso? Non sai chi sta bussando? Starà bussando Vinci? O lo sconosciuto? Ha ragione! La televisione ha ragione! Noi non sappiamo chi sta bussando alla porta? Potrebbe essere sia Vinci? O lo sconosciuto? Secondo voi chi è che sta bussando alla porta? Questa? È solo una trappola secondo voi? E appena aprirò la porta? Uscirà lo sconosciuto e mi rapirà? Oppure Vinci? Chi mi sta aspettando? Che ne dite diavoletti? Che ne dite? Devo aprire quella porta? Devo aprire quella porta? Non sappiamo chi sta bussando? Questa è proprio una giornata pericolosa! È una giornata bruttissima! E perché capita proprio tutto a me? Vinci? Perché stamattina sei uscito e sei andato a supermercato? Sì! Avevamo tanta fame! Ma era meglio restare a casa! Cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo aprire... Pensaci bene prima di aprire quella porta! Diavoletti? E perché c'è questa cosa strana qui? Sembra proprio una cosa malvagia! Che devo fare? Secondo voi diavoletti? Devo aprire quella porta? Ma sì o no? Cosa devo fare? Ok! Ho preso la mia decisione! La mia decisione è questa qui! Aprirò questa porta? Sì! L'aprirò! Avete capito proprio bene! Aprirò questa porta! Non mi interessa di chi c'è dietro! Ma se c'è Vinci è meglio ancora! Se c'è lo sconosciuto mi rapirà! Ok! Diavoletti! La apro! La apro! Chi ci sarà dietro questa porta? No! Oh mio Dio! Sarà Vinci o lo sconosciuto! Speriamo che sia Vinci! Aprirò questa porta! Alta! Vinci! Sei tu! Ciao! Ciao! 'dao run V Brian hirò Ohianni Dio Ciao! Speri 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 Grazie.